Ciao ragazzi! Nuovo video, nuovo gioco! Oggi siamo su Spitlinks! Vedete che importanza nel disegno! Olè! Con L corro... Cioè corro, vabbè, con L nuoto... Ok, ho dato sputo eh! Cosa c'è lì sotto? Niente! No, 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 ma... Ma perché? Ah, perché ho tipo, non so, non è limitato... Ah, ok... E come si ricarica? E' un po' uno schifo eh, sto gioco! Fa veramente schifo! Però, vabbè, dai! Magari poi diventa più bello! Ma quanto dura! Ah, questo che è un boss tipo... Ah no, ho sbloccato uno spliting. Nooo. Olé. Bene, 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 bene. Che giocatore, che giocatore, ha già capito le meccaniche. Ta ta ta. Ora ce ne saranno altri 400 da battere. Ta 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 ta. Ahhhh. Olé. Troppo forte, troppo, troppo, troppo. Aiuto. No, no. No. Adesso e muoio perché rimbalzo a caso. Morite entrambi, bene, bene, GG. Di. Di. Ehi. Stonks. Ma tanto se si lancia ci sono tante cose che rimbalzano che muove di per sé. Olé. Però sì, se lasciamo la pallina lì, tipo così. Ok. Io continuo a sparare lì. Qua ne ho uno e basterà. Qua ne ho uno e basterà. Uii. I want it. Bellissimo. Uii. Qua cambia proprio tutto, eh, il concept. Sì, però. ho il fatto che ho i cosi limitati, eh, non illimitati perché qua ne ho già di più. Cioè, però se finiscono sotto, finiscono sotto. Olé. Olé. Bene, bene, bene. Dai. Mamma mia, ragazzi. Ne manca uno. Olé. Bene. Chi va, va. Bello. Olé. Ta, 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 ta. Olé. Bene, 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 bene ho avuto paura ad un certo punto. Ta, 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 ta. Yoow. Olé. Hmmmmh. Ho vinto. Meno male. Meno male. Ma cos'è. bene oh wow che bello fantastico bene ragazzi al prossimo video ciao ciao ciao